La famosa notte di Hollowwind. Si narra che durante questa notte il confine tra il nostro mondo e quello degli spiriti si assottigli fino a svanire. Un'antica leggenda predice che i non morti prenderanno il sopravvento, cercando di infestare la nostra isola e dominarla. Ma noi non ci faremo trovare impreparati. Abbiamo già il nostro piano per difendere. Ogni angolo, con guardiani, trappole e rituali di protezione. Raduniamo i nostri coraggiosi alleati e accendiamo le fiaccole. Questa notte, la nostra isola rimarrà sotto il nostro controllo. Preparatevi a una notte di resistenza e mistero. Perché questa Hollowwind sarà epica. Regolamento Notte Zombie. L'evento ora. 20 e 30 l'esercito consegnerà una pistola con colpi speciali e un'auto speciale, disponibili solo per i partecipanti dell'evento. Interazione con gli zombie. Quando gli zombie vengono uccisi, devono essere perquisiti. Solo gli zombie rilasciano materiali per rifare i colpi. Crafting. Ogni punto di crafting sarà segnalato in mappa. Gli zombie rilasciano tre tipi di materiali. Prima risorsa craftabile e foto. Seconda. Risorsa craftabile e pezzi di metallo. Terza risorsa la caramella lussuosa non craftabile. Utile per i premi. Premi. 1000 caramelle. Una macchina e 5000 dollari. 800 caramelle. Una moto e 4000 dollari. 600 caramelle. 3000 dollari. 500 caramelle. 2000 dollari. 400 caramelle. 1000 dollari. Ricordate. Stasera in città. Attenzione quando entrate. La consegna del pacco avverrà dalle 20 e 30 alle 21. Dopodiché. Date fuoco alla città. La consegna del pacco avverrà dalle 20 e 30 alle 21.